Analisi on-chain quando io voglio acquistare una cripto. Ciao sono Silvia e Nico. Aiutiamo le persone ad entrare nel modo corretto nel mondo delle cripto. Cos'è l'analisi on-chain? L'analisi on-chain è un modo di analizzare quelli che sono i dati su una relativa blockchain. Generalmente si fa per una relativa moneta e lo si fa perché? Per evitare di buttare soldi a destra e a sinistra. Cosa possiamo vedere da questi dati? Possiamo vedere per esempio tutte le transazioni, le attività degli indirizzi e fondamentale come sono distribuite le monete. Questo perché è importante? Perché ci aiuta a capire quanto una moneta può essere centralizzata o decentralizzata o quanto una persona ha il potere sull'intero mercato di una moneta. Questo perché? Perché se una persona decidesse di vendere tutte le monete che ha, lascerebbe tutti gli altri mutande. Quindi? Quindi è fondamentale fare un'analisi on-chain in fase di acquisto. Soprattutto se si vanno a prendere monete meme coin, cazzate coin, monete strane o monete anche nuove in uscita appena uscite, è fondamentale. È fondamentale per evitare di buttare via i propri soldi. Se questi argomenti ti interessano scarica il nostro corso gratuito che troverai nei commenti.